Non sarà a neve, a spezzare un albero Avessi finito sarebbe stato meglio di averti visto piangere in uno specchio E mi manca la mia voce, ormai, ora che, ora che, ora che sei qui Non sono qui, ci investiremo di vertigini E il tuo grido esploderà, come la vita qua, ovviamente Mai smetterai, canterai, perderai Luigi Bruffoneri viene da Grigento Come ti trovi su queste strade? Ci troviamo benissimo, prima volta a Casarano da pilota Sono venuto un paio di volte a vederlo E mi sono sempre piaciuto questa tipologia di strade Un in bocca al lupo a tutti Grazie all'organizzatore, nonché presente alla mia scuderia Per averci ospitato qui In bocca al lupo ragazzi Anche, già è resa Artigo di pennaire al numero... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.